L'8 marzo è un po' diverso dal solito perché non si possono fare eventi, però vi siete inventati comunque qualcosina lo stesso. La biblioteca non potendo fare alcuna manifestazione in esterno ha voluto comunque offrire un simbolo, una propria mimosa ai lettori e propone per l'8 marzo una lista di letture con taglio femminile che spaziano vari argomenti sul tema della donna che non è solo limitata al tema della violenza, l'affermazione in campo sociale e politico di se stessa ma anche a un discorso di un'analisi più intima. La situazione emergenziale di questo ultimo anno è difficile anche ovviamente per una biblioteca, però la vostra biblioteca di Campomorone ha sempre continuato a offrire il suo servizio ai cittadini. Sì certo, nei momenti più difficili abbiamo attivato un servizio denominato Libri da Asporto, infatti facevamo recapitare su richiesta i libri a domicilio. Adesso la biblioteca è aperta su appuntamento, non appena possibile, non appena il tempo ce lo permetterà, riapriremo il nostro punto di lettura in esterno con la biblioteca in giardino dove gli utenti potranno soffrire anche dei bellissimi spazi che il nostro parco mette a disposizione.